Secondo gli investigatori ha un nome e un cognome l'autore dell'atto intimidatorio contro un ristorante padovano che il 21 gennaio scorso esplose alcuni colpi di fucile contro il locale. Si tratterebbe del detenuto 43enne del carcere Due Palazzi che è stato arrestato ieri per evasione. L'uomo durante un permesso per una vicenda di gelosia e tradimenti avrebbe sparato contro il ristorante quindi pochi giorni dopo non sarebbe rientrato in carcere al termine della licenza. I carabinieri sulle sue tracce lo hanno trovato e arrestato in un'abitazione di Torino convinti che sia lui l'autore del gesto. Nei guai anche due uomini che lo avrebbero aiutato nella fuga. Il fucile, un'arma da caccia con cui ha sparato i tre colpi, non è ancora stato ritrovato.